quando tornavo a casa per giustificare il sangue che ci avevo sui vestiti dicevo a mamma che dopo la scuola andava a lavorare in una polleria per guadagnarmi qualcosa di soldi ma li guadagnavo diversamente siete ottimi impastati nel cemento seppelliscimi qui in direzione della mecca la gente non lo sa ma se togli i morti dai palazzi i palazzi cadono